Ciao! Quale idea di come l'espressione è importante anche per voi? Se non, sono qui per aiutarti. Per la seconda volta la mia musica orbita la nostra planeta Earth. In particolare, la mia nuova composizione di espressione Zero è suon board l'International Space Station e potete spiegare perché questo è importante. Perché, come umano, viviamo una nuova era e la ricerca di espressione di espressione ci permetterà di diventare una specie multiplaneta e, allo stesso tempo, mitigare l'impacto della crisi climatici che viviamo. E credo che la arte di espressione, in particolare la musica espressione, può collegare le persone all'interno del mondo e trascendere le barri culturali per esplorare e scoprire le strade dell'espasso. E questo, senza anche considerare tutti i benefici che sono già disponibili, grazie alla ricerca di espressione. Quindi, se siete interessati a questo, seguite le mie attività e ascoltate la mia musica. Sono Leonardo Barilaro, il Spacepianist. Vi vediamo qui.